Vedi, ho una cosa di meraviglioso che è un grande potere, che è il potere della povertà. Il potere della povertà? Che ora ne parliamo di questo. Andiamo con la sigla. Vai con la sigla e partiamo immediatamente. Il potere della povertà. Vengo grosso così, no? Abile. No, perché penso... Ladies and gentlemen, dagli studi di 091 TV va in onda una nuova puntata di Face to Face. Allora, la verità è che io non sono stanco di parlare di politica, perché purtroppo di politica e mala politica e di tante cose dedichiamo uno spazio, almeno uno spazio al giorno. Oggi invece voglio parlare di politica e di altro con un amico, un grande della televisione, un giornalista super, un professorone. A voi tutti piace perché lo conoscete ed è il simbolo anche del nostro ottimismo. Perché ottimismo ormai non ce n'è quasi più. Lui è Gaetano Basile. Ciao Gaetano. Buonasera. Come stai? Bene, bene. Tu mi dirai, Francesco Meio, chi c'entra con la politica? Centri, perché ognuno di noi ha un significato grosso e serio per la politica che stiamo vivendo. Oh, politica. E quindi questi signori... No, 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 ma precisiamo subito. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice, io non faccio politica. E dico sempre, scusa, ma tu mangi ogni giorno? Sì, quindi vai a fare la spesa? Sì. Chi deve fare politica? Tu paghi le tasse? Sì. Non tutti. Tu c'hai un'attività? Sì. E quindi fai politica. Non esiste un essere umano che non faccia politica. Cioè, chi vive nella polis è uno che fa politica. Certo. Io penso che tutti gli esseri umani facciano politica. Uno può essere apartitico, se vuoi. Non avere idee precise... O antipatico. Ecco, non avere idee precise su un certo orientamento politico, però fa politica e quindi è giusto. Che poi la politica è una cosa seria, solo che è diventato uno schifo in questi ultimi anni. Forse lo era. La politica io la considero sempre scritta con la P maiuscola. Oggi si scrive con la P minuscola e questo la dice lunga. Cioè, siamo in un momento di grande travaglio sociale, ma di grande fatica, veramente sociale, economica. Un disastro, veramente un disastro. Ma Gaetano, noi siciliani siamo abituati ad arrangiarci. Tra l'altro stiamo lavorando su un progetto che si chiama l'arte di arrangiarsi, stiamo lavorando insieme. Ma in questi casi cosa c'è da arrangiarsi? Cioè, come ci si può difendere, arrangiarci, darci da fare, rispondere a questa crisi economica? Perché ormai tutti lamentano che alla terza settimana, quarta settimana non si arriva, ma mi sembra una frase già costruita. La verità è che un seppoccan parecchio si può dire al limite. Ma vedi, io non è che sono molto pessimista sotto questo aspetto. Anzi, ti debbo dire in tutta sincerità che questa crisi è servita a farci... È servita un po' come una specie di Montecatini dell'anima. Abbiamo cominciato a capire... Montecatini dell'anima? C'è una forma di disinfestazione del nostro intimo. Non avendo più soldi per il superfluo, non avendo più sciocchezze da comprare, non avendo più false ricchezze da esibire, finalmente stiamo cominciando a capire che i jeans non c'è bisogno di comprarli per forza col marchietto. Si possono comprare i jeans con 15 euro, 30 euro, tanto sono uguali a quelli di 150. Ma stai parlando di promuovere la cineseria? No, no, ma io sto parlando proprio dell'eliminazione del superfluo. La gente finalmente ha capito che era inutile andare ogni sera fuori. Un sera fuori non te lo puoi permettere perché costa troppo. Ha capito che la macchina bisogna lasciarla a casa. Io viaggio comodamente con tanto di autista, 101, 107, 106... Avanti di avere il tuo autista? Con l'autista. Certo, non è blu il tuo pezzo, però non è un autoblu. No, no, ma c'ho l'autista. Tra l'altro è comodissimo. Puntuale no? No, puntuale mai. Mai. Però diciamo che è comodo, oltretutto è anche divertente. Io consiglio a tutti di usare il mezzo pubblico. Ma per farti quattro risate? Fate finta di leggere e sentite tutto quello che la gente si racconta, tutto quello che la gente dice, tutte le parolacce rivolte al governo. Ma a parte questo ci sono spunti bellissimi, proprio bellissimi. Ma te non ti fermi con il professore, ma lei che ne pensa? No, c'è sempre il professore, ma lei va in difficoltà. Io dico sempre io in difficoltà, perché c'è sempre quello che vuol sapere. Però, vedi, ci sono anche elementi che mi rattristano. Ieri sono stato veramente triste perché ho preso la 101 e sono saliti giustamente i controllori che fanno il loro dovere, il loro lavoro, egregiamente. Solo che uno di questi si è rivolto ad una signora di colore dandole del tu. Non mi è piaciuto. E allora mi sono alzato. Forse perché non si capiva, no? No, ho chiesto, ma siete parenti? Ho detto al controllore, ma è una sua parente questa signora? E questo mi fa, no. E allora scusi, perché date il tu? A questa che è una signora viaggiatrice, per usare un termine amat, una signora passeggera, per leggere quello che c'era scritto. I signori passeggeri sono invitati. Quella era una signora passeggera, ma non c'aveva il biglietto. E allora era una signora viaggiatrice, sprovvista di biglietto. Sì, ma siccome mi diede del tu, ma quelli danno del tu, primo perché hanno una modesta cognizione della nostra lingua, e quando mettono i verbi all'infinito e danno del tu a tutti, non è che lo fanno per cattiveria, è perché si trovano in difficoltà a parlarlo. Sono quasi tutti anglofoni, quindi per loro you si traduce tu. Ebbene, sai che cosa mi è dispiaciuto? Primo, questo atteggiamento del controllore, che mi fa per reazione, ma io sto facendo il mio dovere, ma io non sto assolutamente criticando il suo lavoro. Anzi, non io lo critico, anzi, lei ha fatto bene a chiedere il biglietto, deve multarla, la multi pure. Però, dandole del lei, che è più elegante. Secondo, ed è quello che mi ha disturbato di più, nessuno dei passeggeri del 101 affollato ha aperto la bocca. Anzi, quando io li guardavo negli occhi, abbassavano gli occhi e facevano finta di niente. Era un discorso a cui loro non volevano partecipare. Cioè, praticamente, questa è la chiave di entrata del fascismo. Il non voler prendere parte. Questa è una grande, grande vergogna. Veramente, ho provato grande vergogna come palermitano. Perché ho detto, il fascismo comincio così, col voltarsi dall'altro lato. Tu pensi che sia un vero fascismo o è sintomo di grande ignoranza? No, io sono certo di una cosa. Vedi, noi italiani al 50% siamo fascisti. E al 50% siamo di sinistra. Sono due posizioni dell'anima. Sono due valutazioni. C'è chi è fascista per ignoranza, per stupidità. Per sentito dire. Perché, e io mi ricordo sempre le frasi delle persone anziane, ah, ai tempi, le mussoline, queste cose non succedevano. Allora spiego sempre che queste cose non succedevano perché era proibito parlarne sulla stampa. Quindi non c'erano gli omicidi violenti perché non se ne parlava. Si potevano lasciare le case aperte? No, le case si devono lasciare chiuse perché le rubavano tranquillamente. solo che non veniva scritto sul giornale. E i treni arrivavano in orario. Forse questa è l'unica verità di tante leggende. E noi stiamo, abbiamo questa tendenza a scivolare sul fascismo con una facilità incredibile. E questo è quello che mi preoccupa di più. Ma alla fine della storia cosa accade? Il controllore poi... No, è accaduto che per fortuna questa ragazza assieme ad un altro hanno aperto il finestrino e approfittando della fermata si sono calati giù dal finestrino. Io ho applaudito perché è stata una cosa bellissima, mi è piaciuta. E il controllore si è incazzato. Evidentemente. Il quale si è girato e se ne è andato. Mi ha guardato storto, mi ha quasi fulminato, dicendomi, insistendo, che lui stava facendo il suo dovere. E io mi ho detto che era giusto che lui facesse il suo dovere, era pagato per questo, però non in quella maniera. Ma questa è una cosa che succede spesso. Se tu ci fai caso, spesso quando si è in presenza di uno che ha la pelle diversa dalla nostra, si scivola subito al tu. Che è una cosa vergognosa. Non mi piace. Non è elegante oltretutto. Vedi, la cosa ancora più grave è un'altra. Che questa gente è quella che non frequenta i quartieri popolari come il Capo, la Bucceria, nei giorni festivi o la domenica mattina. Guarda, è un momento esaltante. Perché se tu ti giri quei nostri vicoli attorno alle nove e mezza, dieci del mattino, li vedrai affollati di donne che sembrano farfalle, bellissime. Sono tutte queste donne di colore vestiti con gli abiti della festa e sono pieni di colori. C'hanno i turbanti, hanno pettinature che le fanno sembrare regine. È un momento veramente bello. Mi diverte perché se tu vai a girare la via Sant'Agostino una domenica mattina e se vai in giro e allora rivedi che cosa doveva essere la Palermo multietnica di mille anni fa. C'è lo stesso fascino, lo stesso colore. Vederle velate, vederle così, con questi abiti orientali, mi riempie di grande gioia. Senti, ma noi ci siamo dati oggi appuntamento in questa nuova puntata di Face to Face perché volevamo parlare un po' di quello che sta accadendo nella nuova Palermo di Orlando con la sua nuova giunta. Dicono che Palermo si è svegliata finalmente soprattutto nell'ambito culturale e i cantieri rivivono ma io credo che sia una messa cantata dallo stesso prete in una cave diversa e in un'altra tonalità ma poi il ritornello è sempre quello. Io sono, vedi, in parte sono d'accordo con te. C'è un risveglio di tutto ciò che è gratis. Ma tu paggi gratis? Come? Tu mangi gratis? Ma io, di fatti, io ho un problema che io dico sempre vedi, io ho i miei clienti o committenti chiamali come vuoi che quando mi chiedono di dire due parole o scrivere due righe e io dico sì, la fattura che la faccio c'è sempre una faccia che mi guarda quasi scandalizzato ma perché si paga? Dico no, non è che si paga. io campo scrivendo due righe e dicendo due parole per carità non è che mi servano proprio per mangiare perché bene o male riesco pure a mangiare ma mi servono per pagare le bollette. Dico però possiamo trovare una soluzione sarebbe quale? E io suggerisco subito il cambio merci e questi mi guardano in genere con lo sguardo quasi perduto che sarebbe senta io ne offro un ventaglio di servizi la bolletta della luce, dell'acqua, del gas, del condomino, del telefono e lei sceglie quale vuole pagare e io le scrivo quello che fa e io le scrivo e le dico le due parole che lei vorrebbe che facessi a gratis questa è un'altra forma di cattiva educazione molto cattiva perché chi vive all'altare deve vivere all'altare mi pare naturale e invece qua c'è la piega del fare finta di poi c'è poi c'è quello poi l'abitue insomma quello che non paga nessuno e purtroppo ci caschiamo tutti ci caschiamo tutti hanno certo nome e cognome ma la cosa che mi fa incazzare no no ma li conosciamo tutti perché poi tra l'altro appena tu dici guarda che il tizio mi ha fregato assieme alla moglie tutti e due insomma ben organizzati ah ma a me pure ah sai pure hanno fregato ah ma quello si è andato pure a cantare a suonare per lui ecco cioè li conosciamo tutti però sai cosa che mi fa arrabbiare davvero Gaetano è sapere che poi queste persone di cui noi sappiamo pure di chi stiamo parlando si ripresentano ai nostri politici agli enti e vengono continuamente finanziati cioè continuano a essere finanziati e loro continuano a fare i cosiddetti pacchi sì 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 ai loro fornitori di servizi possa essere Gaetano Basile possa essere il Panasci la televisione il cantante il musicista normalissimo guarda uno di questi ha fregato un un ristoratore un ristoratore di Marsala gli ha fregato 37 mila euro sto poveraccio perché ha organizzato in occasione di un vinita lì diciamolo pure di qualche anno fa una cena importantissima per 150 persone e questo ha preteso che lui portasse un pesce spada intero i gamberoni di Mazzara e quello giustamente si portò tutto ma insomma era il portafoglio ha acquistato ha organizzato piangeva come un vitello ma che mi ha detto guarda che mi ha fregato 37 mila euro ma se non ricordo male tu spicheravi io spicheravo e mi ha fregato pure e io raccontavo con le mie telecamere l'evento e mi ha fregato e ti ha fregato e che hai visto il cartello devo dire che il signor Lacanghina è proprio uno stronzo questo ci va lo dico di cuore tanto stiamo tutti agendo in maniera legale perché possiamo far passare ma più che altro raccontiamo a queste istituzioni che ci sono personaggi che non vanno manco trattati che vanno allontanati irradiati perché questi godono nel fregare gli altri e sono sempre come dire all'attenzione della politica ma vedi tra l'altro la cosa questo non è un poveraccio perché questo i soldi che ha fregato a noi tutti si è andato a spendere nella sua proprietà in provincia di Caltanissetta ecco perché non gli trovano niente nei conti e non gli trovano mai niente perché la proprietà è un paio che si è intestata non so a chi insomma diciamo che oggi l'imbroglione è uno che cerca sempre di salvarsi anzi addirittura chi ti deve dei soldi se tu ci fai caso va a raccontare in giro tu capisci sto mascalzone mi ha denunziato per mille euro e io preciso sempre veramente insomma non erano proprio mille euro erano un pochino di più e poi non è da tre mesi che mi devi i soldi ma è due anni e tra l'altro sappiamo che lui i soldi li ha presi certo e si è fatto le vacanze all'estero perché poi è una cosa bella un ragazzo che si goda la vita si goda la vita alla faccia degli altri sì ma questa è una cosa bellissima però ecco noi in qualche modo ridiamo in questo momento con Gaetano Basile con altre persone facciamo il finto sorriso perché effettivamente siamo arrabbiati e un po' stanchi di vedere sempre queste persone perché se noi torniamo quest'anno al Vinita è molto probabile che lo troviamo lì con un incarico con qualche cosa da fare certo ma io penso che la prossima stagione questi signori avranno un'altra volta gli incarichi per fare gli spettacoli estivi da qualche parte da qualche parte certo noi ci lamentiamo tanto quando vediamo per esempio il ripetersi di alcuni politici nelle loro elezioni diciamo ma quello che ha fatto 30 anni che fa il politico 30 anni che ci frega 30 anni che non lavora per i cittadini 30 anni che non fa un tubo pensa a se stesso ma ci sono altrettanto tanti elementi scarsi che girano vicino a quel mondo politico diciamolo puro che ha fatto i filini che ormai noi siamo stanchi di vederli all'azione e che hanno loro dato manforte a questi truffaldini di agire nel nostro territorio ecco perché va cambiato tutto il sistema che poi alla fine è un sistema caro Gaetano ma vedi io dico sempre questi qua fanno questo lavoro da da decenni fregando sempre al prossimo sì sì ma nessuno li ricorda come persone per bene puntuali precisi pagatori e quant'altro anzi ti chiedono pure la fattura e ci fanno pure rimettere l'IVA capisci infatti ci rimette sempre l'IVA naturalmente Gaetano invece tu che sei l'uomo che racconta sempre delle storie che poi sono anche vere su Palermo oggi ci vuoi iniziare con qualche cosa di particolare che riguarda che sono la cucina sai noi noi siciliani abbiamo di bello una cosa che basta una bella manciata ci fa scordare tutti ci fa dimenticare qualsiasi tipo di problema stiamo vivendo in quel momento ma anche lì guarda non pensare che cose vadano meglio dal punto di vista ma io sono preoccupato perché da qualche anno si parla troppo di cucina cambiamo essere e che no no e che significa che stiamo cercando di riempire un vuoto di cervello scambiandolo per un vuoto di pancia e significa che abbiamo poca roba nel cervello e ne vorremmo tanta nella pancia mi preoccupa a me questo eccesso anche perché il messaggio è chiaro sto comprendendo bene significa che pensare alla cucina e quindi a mangiare ci fa riflettere ancora meno verso le altre cose l'esagerazione della cucina oggi si parla troppo di cucina il che significa che la cucina ha sostituito l'eros per capirci la cucina è diventata una sorta di di coperta di linus per cercare di consolarci di cose che ci mancano e sono le nostre cose del cervello della testa quelle che ci mancano e compensiamo col cibo poi tra l'altro il cibo in televisione mi umilia proprio è umiliante specie se cucinato in televisione no no ma addirittura guarda io ripeto sempre una bellissima frase di Carlo Petrini che parla di porno enogastronomia televisiva la trovo meravigliosa si si perché se ci fai caso è una forma quasi pornografica nella cucina tu senti questa cucina a qualsiasi ora del giorno tutte spignattano in tutti i canali sono attrici attori per rimanere in tema in tutte le salse tutte le trauti gommisti tutti a parlare di cucina più la sparigrossa la ricetta immangiabile più però che buono hanno capito che in fondo più invita la gente a mangiare da cani più hai successo e poi anche se ci scappa l'intossico no 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 ma non è l'intossico è una questione proprio stamattina ho sentito che cosa era una cosa terrificante ah di prendere del formaggio spalmarlo su una fetta di ananas infornarlo poi ricoprirlo di non so che spolverata di che cosa e questa doveva essere una prima colazione del mattino scusa ma fa vomitare insomma ma meglio un panino che panelle un panino che panelle la facciamo lì mezza bottiglietta di birra alle nove e mezza del mattino siamo contenti io mi ricordo invece quant'era sana quella famosa cosa mi ricordo alle cinque del mattino perché ti alzava alle cinque del mattino ero in viaggio alle cinque del mattino stavo scendo dalla città era l'unico bar aperto si è fermato un camionista è sceso e alle cinque del mattino ha chiesto mi lasse un arancino e mezza birra l'ho guardato guarda veramente hai ammirato ammirato perché sai alle cinque del mattino calarti due arancine e mezza birra pesante però dire cioè calarti calarti di arancine e mezza birra vedete qua dentro nel mio studio c'è qualcuno che si cala alle cinque del mattino due o tre arancine e mezza birra poi te lo presento più tardi uno dei miei operatori ecco questa è la cosa che mi preoccupa è questa cioè si parla troppo di cucina se ne parla sproposito chiunque c'è speculazione ormai su questo tema non dimenticare tutte queste riviste dal cavolo che parlano di vino e di cucina che veramente sono asfissianti sono diciamolo pure onestamente io le vedo con l'occhio professionale sono sono delle scuse per grattare soldi a chi fa il vino o a chi fa prodotti per la cucina ma di serio dietro non c'è niente a vedere la sostanza non c'è c'è il vuoto c'è il vuoto poi tra l'altro questa dei vini oramai guarda non li sopporto più perché i vini non si offenda nessuno dov'è la telecamera ce ne sono tante scegliere una ecco vorrei vedere mi voglio rivolgere a chi fa il vino chi è lei che fa il vino ah lui fa il vino lui fa il vino per cortesia cerchiamo di fare dei vini onesti sinceri senza andare a cercare il ruffianismo per cercare di piacere per forza quello che lo deve bere perché se ci fate caso tutti i bianchi sono tutti uguali tutti i rossi sono tutti uguali e c'è quella cosa che si mette eh per colorare no no diciamo che sia giusta mio nonno diceva sempre una cosa bellissima vedi il rosso lo fa il padre eterno il bianco lo fa l'enologo ora l'enologo è uno che vive sentendo un pochino quali sono gli umori le preferenze del pubblico per cui il vino te lo fa come tu ameresti che sia o che fosse un vino su misura un vino su misura per cui chi ci vuole trovare quello un retro gusto di nocciola e io ci metto il retro gusto di nocciola quindi sono dei chimici ci vuoi un leggero proprio un leggero frizzantino e io ti faccio trovare il leggero frizzantino poi ti piace che ci sia e io ce lo metto poi lo vuoi vedere più più che giallo paglierino con un leggero verdas e io te lo faccio verdas cioè scusami ci stiamo pigliando hai distrutto 50 anni di storia del vino di Sicilia in questo tu parlavi dei vini cinesi che parlavi di quelli siciliani che ci imitano sai perché questo sfogo questa sera che ora abbiamo fatto fuorionda prima esatto si dice a telecamera che non erano spette perché poi aspetta che arrumiamo disse lui lui già capisce che venendo dal maestro io dicevo a Cristiano accendi facciamo un fuorionda con Basile ma noi non lo possiamo fregare è troppo e allora abbiamo parlato proprio di questo cioè oggi mangiamo male spendiamo male facciamo la spesa in un modo sbagliato esempio sono stati in un supermercato che sarebbe una specie di supermercato per poveri tutto a prezzo popolare tutta la frutta a 0,90 non sapevo che esistesse ma dov'è anche perché ci vanno e vabbè non te lo posso dire perché se no ci denunziano tutti noi e tutta la frutta che c'era tutta a 0,90 unico prezzo guarda da buttare c'era veramente le pere erano di colore nero con contusioni in ogni parte del corpo non c'era da prendere niente proprio una schifezza le mele tutte ammaccate brutte piccole le arance non ne parliamo scusate a un euro c'è della frutta bellissima perché non pigliare quella un euro per sparagnare quel 10 centesimi che poi visto che la metta la butti quella frutta ti costa il doppio dello 0,90 la stessa cosa la verdura c'erano povere lattucche che meschini proprio guarda appioncate come si dice all'accarute all'accarute terrificanti come si fa a vendere sta cosa in questo supermercato che io ho definito un supermercato per poveri è apparso da poco c'è tutto a prezzi popolari stracciati i carrelloni della spesa non sono quelli che ci sono in tutti i supermercati no ma sono enormi grandissimi sono dei piccoli tir a spinta e lì i poveri vanno a fare la spesa non sapendo che andando fuori andando in un supermercato andando al mercato trovano roba più buona e poi più conveniente noi lo diciamo mai da anni Gaetano Basile diciamo a tutti i nostri cittadini godetevi anche un po' di mercato storico uscite amica prendete aria andate a immiscarvi tra la gente poi sentire parlare di tutte queste persone la bagnata insomma ci sono delle cose ancora che esistono e finché esistono sfruttiamole ma non solo io dico sempre abbiamo i nostri mercati storici che offrono della merce per tutti i prezzi per tutte le tasche non è vero che se vai al capo tanto per citarne uno c'hai il pesce vivo pesce fresco assieme a questo c'è il pesce frutuso o lo scongelato però deve essere tu a scegliere quello che fa al caso tuo la verdura lo stesso c'è verdura freschissima e verdura che insomma ha visto tempi migliori la frutta lo stesso però vedi il mercato diversamente dal supermercato ti offre un contatto umano il piacere di sentire di parlare di scambiare delle chiacchiere che non che è impagabile che non c'hai in quel terribile vedi io definito sempre perché sembra che dentro il mercato il tempo si è fermato ma il supermercato sai che cos'è per me la morgue dell'alimentazione la morgue la morgue sì la sala delle autopsie c'è il marmo queste cose morte messe sopra dove quindi tu detesti il supermercato assolutamente non mi piace senti Gaetano abbiamo un paio di minuti ma la racconti quella storia del pesce sgombro l'occhio vivo occhio morto che vi ricordo il pesce azzurro diceva perché si chiama pesce azzurro e tutti mi diceva perché il pesce azzurro ma non è azzurro il pesce non è azzurro com'è la storia vera la cosa la cosa più bella no no la cosa è che si montò ad un servizio che feci per la RAI qualche anno fa dove ecco eravamo a Ballarò stavamo guardando un pochino quello che c'era da comprare fresco meno fresco i prezzi buoni e poi c'era un bellissimo banco sgombri e c'erano sgombri che erano di questa dimensione allora dissi al collega giornalista ecco per esempio qua c'è scritto sgombri ma questi non sono sgombri sono occhi grossi che un pesce che rassomiglia alla famiglia il problema qual è per carità il prezzo è pure buono la differenza è che lo sgombro che è piccolino di fatto lo sgombro diceva un vecchio pescivendolo vede che ha arrivato di K a K cioè deve entrare in questa dimensione lo sgombro come misura parliamo come misura come misura e lo sgombro è buono è un pesce dalle carni mentre quello è con una carne che sa di sughero più che di sgombro e allora ecco perché sono pesce allevati no sono dei pesce allevati questi no 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 è un pesce non c'è più lo sgombro da noi perché lo sgombro come la sarda vogliono acque fredde e si pescavano una volta nella zona sud della Sicilia cioè nella zona compresa Sciacca da quelle parti oggi sono scomparsi perché la temperatura dell'acqua si è alzata e quindi la sarda non ci viene più le sarde che tu compri oggi al mercato vengono dalla Spagna vengono dal Marocco ma sarde qui non abbiamo più la stessa cosa lo sgombro quando hai la fortuna di trovarlo è quello che viene da quelle parti per carità freschissimo anche perché quello che viene da Mazzara e che ti vendono a 40 euro al chilo c'ha i suoi 10 giorni di frigorifero quindi quello c'ha 3 giorni di viaggio non significa che è brutto no no per carità però non è pesce appena pescato pesce appena pescato oggi non esiste più è una specie che si è estinta e quindi stavamo facendo queste osservazioni e chi sto fa? dice no chi sei scuol ma chi sei occhio grosso poi finalmente scusami ma tu l'occhio grosso che dimensione debbono avere? un tonno ah vabbè è meglio non parlarne questa è stata una cosa stai simpatica grazie Gaetano Basilia per essere stato con noi io chiuderei dicendo che mangi stasera a casa che hai preparato? non lo so non lo so hai preparato mia moglie stasera? hai preparato mia moglie perché l'altro giorno mi hai fregato mentre eravamo a casa tua a parlare di lavoro sentivo un odore di pasta che è una cosa fantastica e mi ha detto lo sto cucinando io mentre parlavi con me non ho capito come hai fatto però l'odore era buonissimo sì perché è una pasta meravigliosa ecco la pasta che è di roccola rimanata costa poco è buona da impazzire e poi la telecamera è sempre quella chi sta a guardare? guarda è lui è lui è lui è lui è lui scusate mangiatevi la nostra verdura per ora è il tempo di sparacelli olio e limone è una spolverata di pepe è una meraviglia pasta che i roccola rimanate è un'altra delle nostre meraviglie e vi evita di usare activia perché alla Marcuzzi non fa effetto è dieci anni che pigliattivia buona giornata a tutti e buona continuazione con i nostri programmi di 091 grazie Gatano Basini a presto grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti